Musica Non tutti gli affattamenti sono duplex, sono credo gli otto centrali duplex, poi sono tutti quattro a mono, quindi sono quattro appartamenti per ogni ingresso che avete visto, due superiori e due inferiori. Lei qui in un duplex? Qui in un duplex, quindi sì, questo è un disagio che fa molto caldo al momento che non c'è un'apertura nella parte opposta rispetto alle finestre, alla vetrata. Ma sotto si sta bene? Ma sotto si sta discretamente, sì, sì, sì. Ma adesso che inizia il caldo è perché sennò, ne sono i due mesi luglio-agosto, tra virgolette il problema, altrimenti non ci sono problemi, no? Musica di una parete avvetrata, quindi grande esposizione alla luce, il fatto di avere del verde davanti e contemporaneamente di essere a 5 minuti a piedi da un centro abitato, ha i suoi vantaggi, insomma. A differenza di una casa normale, può essere al centro, per usare macchine continuamente, sembra essere un po' in campagna. Musica Musica